il genocidio armeno non solo aveva bisogno di non essere dimenticato ma anche di essere conosciuto è stato questo il vostro intento e a parte il libro che vi ha ispirato qual è stato il vero motivo per cui vi siete imbarcati in questa storia ma guarda per noi veramente è molto importante questo giorno della memoria perché noi vogliamo parlare come tu hai accennato a quando la memoria è stata tradita quando veramente un popolo ha sofferto e non si è creato memoria di quella sofferenza questo è successo al popolo armeno quindi inserire nel giorno della memoria anche la memoria di questo veramente genocidio che è avvenuto nel 1915 l'armenia significa veramente cercare di rimediare a una colpa terribile che noi abbiamo personalmente che ha la cultura italiana la politica italiana che ha avuto in questi secoli la cultura europea che veramente ha voluto mettere in un angolo oscuro questa storia gli interessi della dell'europa dopo la fine della prima guerra mondiale ha fatto sì che le varie potenze hanno preferito non parlare di questa cosa perché creava dei problemi nella disgregazione dell'impero ottomano perché si parla dei turchi si parla degli armeni che erano vivevano in turchia allora impero ottomano e perciò per esempio noi noi e paolo siamo veramente è importante per noi questa giornata perché ecco se pensiamo da dove è nata noi da un po di tempo in questi ultimi anni vivevamo con molte inquietudini come uomini come cittadini non dico come registi il fatto che convivessimo con questi genocidi che avvenivano ma l'adriatico è piccolo al di là dell'adriatico veramente è avvenuto in serbia in kosovo cose spaventose avvengono tuttora in africa in asia e diciamo ma siccome il genocidio cioè l'ucciderci tra fratelli tra famiglie che il giorno prima si sono salutate e il giorno dopo invece poi si stragiano l'un con l'altro è veramente forse la guerra più terribile possibile l'ho già ricordata altre volte ma so tucidite quando parla della guerra del Peloponneso questa grande storia di guerra che lui racconta due tre mila anni fa lui dice non c'è guerra più guerra di quella che è combattuta fra persone che si conoscono potremmo aggiungere che ieri si amavano e che oggi si uccidono noi sentivamo queste inquietudine come è possibile si vive si mangia si va a tavola però non è che da una inquietudine di cittadino di uomo eccetera può nascere un film un film è un fatto deve scattare certo parte da un dato di realtà che ti prendi ma poi se non scatta un elemento di fantasia per cui un film non è un saggio un film non è una cosa di sociologia non è un comizio il film è qualcosa dove la realtà e la fantasia si uniscono e come dice Pilandello finché il caso non ti aiuta non puoi fare un'opera in questo caso ci ha aiutato quando abbiamo letto il libro dell'Antonio Aslan che è un'italiana ma armena cioè lei nel suo libro che è un romanzo sì ma è soprattutto un documento lei racconta proprio dei suoi zii o del suo nonno della sua zia che sono stati trucidati nel genocidio e noi purvisamente già con queste inquietudine addosso quando abbiamo incontrato questi impressionanti di Antonia vivi sanguigni precisi non generici ma veramente individuati noi abbiamo detto da qui forse possiamo partire da questo nucleo familiare allora abbiamo detto a Antonia che è quella che ha scritto il libro grazie per quello che tu ci dai ora noi prendiamo il tuo materiale certo rimane la storia del genocidio almeno ma noi ora prendiamo i tuoi personaggi e li trasformiamo cambiamo nome li portiamo alla nostra realtà personale a come noi immaginiamo come avrebbero reagito i nostri parenti in un'occasione del genere quindi perché volevamo entrare prima di tutto noi stessi e poi il pubblico in una sintonia forte con i personaggi di questa storia che stavamo per raccontare terribile per cui quando un giorno ci fossimo sentiti veramente intimi con questi personaggi non solo con quelli della famiglia che sono diciamo le vittime ma anche con quelli che hanno fatto del male cioè riconoscerli sentirli come presenze vive a quel punto che noi diciamo quando li conosciamo quando il pubblico ha cominciato speriamo ad amarli a questo punto li mettiamo nella grande terribile tragedia collettiva che è stato il genocidio che è stato l'esodo e così abbiamo fatto nel film che spero che voi possiate vedere un giorno nella prima parte noi raccontiamo questa cittadina degli armeni in Turchia la vita familiare tutto ciò che certo si prepara dietro di loro ma loro sono innocenti prima veramente stiamo dentro un nucleo familiare come potrebbero essere i nostri oggi e quando poi questo nucleo è diventato parte delle nostre emozioni a quel punto vanno in un grande evento collettivo tragico che però noi non vogliamo finire senza speranza e violentando forse un po' la realtà al finale qualcuno si salva e sono dei bambini voi avete avuto anche una delle soddisfazioni più grosse per un artista, per qualcuno che produce delle opere che è quella di venire riconosciuto il risultato anche dell'opera prodotta siete stati invitati e premiati, vi è stato consegnato un riconoscimento dal Presidente Armeno Siamo stati a Yerevan perché il Presidente della Repubblica Armena ci ha consegnato un riconoscimento per il contributo che ha dato il film al ricordo del genocidio armeno e la motivazione ha sottolineato un aspetto del film che per noi è importante detto da degli armeni è importante, nella motivazione si dice questo film oltre a parlare di questa grande tragedia non è un film manicheo, è un film in cui i buoni e i cattivi non sono tutti da una parte e gli altri dall'altra e i turchi non sono tutti questi assassini che sono assassini ma in gran parte e non tutti questo per noi è importante perché lavorando nel film e cercando di scavare nell'umanità dei nostri personaggi abbiamo cercato di rappresentare due personaggi turchi che si dissociano dalle azioni degli Zaptieh e del governo da cui dipendono uno che infatti è un militare e addirittura c'è un turco che sarà quello che tenterà di salvare e in parte ci riuscirà di salvare la famiglia armena questo accadeva nel 1915 e penso che oggi molto di più il popolo turco non va considerato una unità unica che nega il genocidio degli armeni, penso che una grandissima parte del popolo turco non è d'accordo con questo atteggiamento del governo, tant'è vero che quando è stato ucciso il direttore della rivista armena gli hanno sparato, usciva dal suo lavoro, c'è stata una manifestazione enorme con centinaia di migliaia di persone che hanno manifestato la solidarietà alla famiglia e l'orrore per questo omicidio che c'è stato e che ci fa capire che se esiste un articolo della Costituzione turca che nega la libertà di espressione e di pensiero, non mi ricordo il numero dell'articolo ma è un articolo che tutti gli storici citano, se viene abolito questo articolo credo che tutti gli storici armeni e tanti armeni potranno finalmente parlare, raccontare la storia come loro la conoscono oppure come non la conoscono e vogliono conoscerla e è chiaro che è un elemento di dolore anche riconoscere certi aspetti terribili del proprio passato storico, però ogni popolo ha nella sua storia le sue zone di luce e zone di ombra, per esempio noi abbiamo avuto il fascismo e poi dopo è stato riconosciuto l'orrore del fascismo, in Germania c'è stato il nazismo e si sa cosa ha fatto il nazismo e qua se ne sta parlando, è bene che se ne parli sempre e sempre di più e anche se lentamente la Germania ha riconosciuto l'orrore perpetrato dal nazismo, noi ci domandiamo perché il governo turco non ha la forza di riconoscere questa zona orrenda della sua storia e dia la libertà agli storici di poterne parlare e allora noi in genere usiamo una frase fatta di utopia, diciamo noi abbiamo fiducia che questo avverrà e speriamo e anzi vogliamo dire siamo convinti che nei prossimi anni il nostro film verrà proiettato nelle scuole, che lo vedano i ragazzi, che lo vedano i bambini, che lo vedano tutti e sappiano cosa è accaduto e lo sappiano perché questo non accada mai più. Vedi la cosa della memoria che è nata quest'idea da qualche anno ma che veramente cresce nella coscienza del mondo e ovunque io so che in Toscana e sono felice di questo della nostra Toscana accanto alla grande iniziativa centrale, altre iniziative in quel giorno avverranno nei comuni. Questo è importante perché ricordo una cosa, quando Hitler si mise a un tavolino con i suoi orribili sgherri per decidere di pianificare l'olocausto allora qualcuno di loro osò dire ma non è che il mondo si scandalizzerà per queste cose che pensiamo di fare e lui dispose questa frase. C'è qualcuno ora nel mondo che ricorda il genocidio degli armeni? Non c'è nessuno che ne parla. Quindi avanti. Ecco, ecco dove è l'importanza della memoria. Se ci fosse stata memoria allora, non dico che Hitler avrebbe cambiato idea perché quello è un pazzo che sta all'inferno, spero come dicevano, Dante lo deve mettere all'inferno, anzi qui in fondo, spero che ce l'abbia messo, ma se ci fosse stata la memoria di quello che è avvenuto probabilmente qualcosa di diverso sarebbe successo. Io voglio ricordare allora un episodio che ho ricordato altre volte sulla memoria. Dunque, alla fine degli anni 50 noi eravamo a Roma e veniva a lavorare a fare le pulizie in casa nostra una donna, una armena, si chiamava Melania. Melania era una donna piccolina, intelligentissima, vivace e sembrava debole, invece poi quando parlava sentivi che era una donna piena di energia, che aveva dietro una forza strana. Noi eravamo molto giovani e lei ci raccontava un po' la storia da cui veniva. Lei è stata una che è stata deportata, è rimasta lei sola, sopravvissuta e poi si è salvata in Francia e poi in Italia. Noi quando raccontava dicevamo, noi pensavamo di conoscere la storia abbastanza insomma, venivamo anche dalle studi universitari e dicevamo sì, è vero, è accaduto questo, ma probabilmente lei sta esagerando, lei è diventata leggenda, lei è vecchia quindi sta ingrandendo quello che… e quindi le davamo retta, in realtà, ma con una forte dose di indifferenza nei confronti del suo dolore e della sua storia. Quando noi siamo messi a lavorare su questo film e abbiamo fatto le ricerche, come accennava prima Vittorio, e abbiamo scoperto questo mondo di orrore che credevamo di conoscere e che invece non conoscevamo, che quasi non conosceva, ora è un po' di più, ora esiste della letteratura su questo argomento, esistono dei dibattiti, convegni in cui se ne parla, abbiamo detto ma noi abbiamo convissuto con questo essere apparentemente fragile che non gli abbiamo dato ascolto come gli andava dato, vorremmo che fosse qui ora e chiedergli perdono, perdonaci la nostra incultura, l'incultura dell'Italia, della Germania, dell'Europa, del mondo, della memoria tradita, come diceva Vittorio.